Oh oh! Vi hanno detto! Allora, lei è Maura e lui è Jacopo. Il vero presentatore di questa sera sarà Jacopo. Lei sarà la balletta, perché Jacopo è un attore in erba. Poi abbiamo il carissimo Andrew Dyrus, così da far agliettare questa serata oltre alla musica. Quindi li abbiamo trovati perché loro spesso fanno queste iniziative, collaborano tanto per il sociale e sapendo che volevamo organizzare questa cosa hanno aderito a collaborare con noi senza farsi pagare, come fanno tanti che si fanno pagare e non risolvono niente. Noi senza far pagare niente risolviamo tutto. Ma non è tutto, eh? Viva la vita! Grazie per il vostro lavoro. Un grande attore e un neopresentatore. L'applauso è per Jacopo Gervasoni! Vieni Jacopo! Vieni qua! Grazie mille! Lui è questo mini presentatore, ma mini perché è piccolino, ma è un grande attore, non dobbiamo dire, perché te hai già fatto ben tre film, giusto Jacopo? Sì, sì. Cosa hai fatto di bello? È un film che si chiama Riso, Amore e Fantasia, dopo è una pubblicità per Madame Oliva, dopo è una trasmissione su Youtube che si chiama Bio, che racconta della criminalità a Torino, benissimo, quindi insomma direi un bel palmarè. Facciamo un altro applauso a Jacopo, se lo merita. con una stella del mondo, dello spettacolo. L'applauso è per la stella più bella, permettetemi con rispetto, verso tutte le donne presenti, Maura Anastasia! Ciao a tutti, sono felicissima di essere qua. Adesso Elena Morfea, che ha cantato in tutta Europa e anche a New York. A tutti voi, Elena, un applauso! Grazie. Microfono! Ma tienilo tu, bravo! Tienilo tu, come fai verso la gallina? Codè? Eh? Come fa la gallina? Tieni qua, vieni qua. Come fa la gallina? Codè? Ecco, codè! Cioè, la gallina fa... Così devi fare, vai! Non ce la posso fare. Vabbè, è un po' timida, attenzione, eh? Vieni. Allora, mi raccomando, soltanto a loro tre apri la mano e fai vedere l'uovo che c'è da te. Pronti? Contate, signori! Uno, due, tre. Ok. E l'uovo? Attenzione, controllati bene che c'è l'uovo da qualche parte. Sarai mica che hai fatto la cacca addosso, eh? Cioè, non lo so. Attenzione, però, attenzione! Perché voglio giocare... Grazie. Grazie.